Si tratta di una strumentalizzazione che la destra ha voluto tirare in ballo perché è povera di idee, quindi le chiediamo, chiediamo alla destra di Bologna e alla destra del paese di occuparsi dei programmi e di confrontarsi con i cittadini su quello e non di primarie che sono state trasparenti, largamente partecipate, 1.600.000 persone sono andate ai gazebo e hanno scelto quale doveva essere il segretario del partito e abbiamo dimostrato con quelle esperienze e con quelle che sono venute dopo che i nostri sono processi partecipativi chiari, trasparenti e regolari e quindi non abbiamo niente da nascondere così come niente da temere.